L'agricoltura salverà il pianeta è il titolo del convegno ospitato dalla regione toscana in Palazzo Strozzi Sacrate a Firenze, ma è anche un monito perché coltivare la terra significa contrastare cambiamenti climatici e rischio idrogeologico, come dimostrano i 20 modelli di agricoltura sostenibile tra Europa, Asia, Africa e America, individuati dal master universitario legato al progetto Gias Building Capacity, coordinato dall'Università di Firenze e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con il contributo di FAO e Regione Toscana presentato a Firenze. È assolutamente necessario convincere il pubblico che non è sospendendo la presenza dell'uomo o smettendo di agire in modo attivo sull'ambiente naturale, risolveremo i nostri problemi, ma viceversa dobbiamo invece intervenire per gestire. Cuore del convegno in Regione è l'alta formazione su cui la Regione Toscana ha investito molto negli ultimi anni, così come fondamentale è il paesaggio, oggetto di una specifica legge regionale e oggetto anche di studio del centro che avrà sede nella villa di Careggi. Un centro del paesaggio che appunto studierà, farà ricerca e documentazione del paesaggio da punti di vista diversi, cioè storici, artistici, ma anche agricoltura, insomma una visione a 360 gradi su questi temi. I siti iscritti nel programma Gias della FAO sono 57, due quelli italiani e sette i potenziali siti toscani, tra questi i vigneti di Lamole, il paesaggio policulturale di Trequanda, la collina di Fiesole.